Con questa breve introduzione con la quale mi accingo a introdurre un breve ciclo di due conferenze, la prima tenuta proprio dall'ingegner Raspa, a cui tra qualche minuto cederò la parola, la seconda mia il 13 giugno, andiamo a parlare di qualcosa di cui normalmente non si va ad accennare se non marginalmente sui libri di storia, dove ci sono le azioni dei nostri sommergibilisti, eroiche e degne di ogni merito e attenzione, ma dietro di loro c'era qualcos'altro, c'era la logistica, c'era quello che gli permetteva di navigare. Ed è su quello che abbiamo appuntato l'attenzione, con la nostra piccola associazione. La foto che state vedendo in questo momento è forse lo scrigno che meglio racchiude uno degli obiettivi della nostra associazione. Quello che state vedendo è forse l'ultimo pezzo di lamiera in terra di Francia di un sommergibile italiano. Nel 1944, verso la fine, gli alleati erano già sbarcati e stavano invadendo la Francia e il sommergibile Finzi, uno dei pochi che erano rimasti nella base di Beto, insomma è stato fatto esplodere. Le lamiere sono state proiettate verso il soffitto e quelle che state vedendo, per cui senza morti assolutamente, quelle che state vedendo sono i resti del sommergibile Finzi, tra i pochi resti, dei battelli che erano nella nostra base atlantica a Bordeaux. Dove la storia ci insegna, fu deciso di andare a dare un aiuto ai tedeschi, ancora con pochi battelli ai primi del 40, battelli nostri che forse non erano totalmente pronti per una guerra in Atlantico, pensata per una guerra di tipo differente. Noi però a Betasom, come associazione, ci arriviamo il 13 giugno del 2002, quindi tra qualche giorno saremo ciotenni, per tutta altra strada. Giocatori di simulatori per computer, non chiamateli giochini perché ora si arrabbiano severamente coloro che li usano, nella fattispecie Silent Hunter 2. La comunità di Betasom apre il forum nel 2002 e per cominciare a giocare con sommergibili italiani all'interno di questo giochino, e così mi uccideranno i miei, viene aperto un forum che ha subito diverse evoluzioni nel tempo e tra queste evoluzioni c'è stato all'allargare i propri interessi. Quindi, dalla storia che serviva a ricostruire i battelli, sia passati a tecnica, al modellismo, al collezionismo, alla raccolta di libri, sia come recensione, sia per i libri più vecchi, che non hanno più un copyright, che li vincoli in qualche modo, pubblicandoli direttamente su una parte del forum per metterli a disposizione di tutti quanti gli appassionati. Chiaramente, oltre al forum, servivano altri sistemi per potersi confrontare sul pubblico, quindi un sito internet per andare a raccogliere tutte le informazioni che ci sono pervenute in questi 18 anni. sito internet che è in evoluzione continua, i webinar che sono arrivati di recente, ma che stiamo scoprendo come una risorsa veramente importante, e per questo ringrazio Atena, c'è il Presidente Baldini che ci sta ascoltando, Atena Ravenna, per l'opportunità di poter esporre questa cosa. Ovviamente su Facebook, una delle risorse principali in questo periodo, è YouTube, sul quale Beto ha pubblicato le interviste dei propri eredici. Non a caso, i nostri eredici erano, purtroppo ormai dobbiamo dire, la risorsa più importante per andare a recuperare una memoria, che sui libri, vuoi perché si cercano solo determinati argomenti, vuoi per opportunità, non sempre viene esplicitata. Ecco quindi che persone come l'ammiraglio Patrelli Campagnano, il comandante Rossetto, Capo Ghezzi, il marinaio Fucci, o ancora l'ammiraglio Sandroni e tanti altri, ne ho citati solamente alcuni, sono stati letteralmente pregnanti nella costruzione della nostra associazione e nel sapere della nostra associazione, che a contorno, ma è un contorno relativo perché sono tutti quanti paritetici come compiti, come tasche che ci siamo dati all'interno dell'associazione, c'è l'allestimento di mostre, sommergibili nell'Adriantico, sono ormai dieci anni che sta facendo il Giro dell'Italia con buoni risultati, sia con esposizioni di pabelloni, sia realizzando dei simulatori veri e propri con cui far giocare i bambini da cinque, qualche volta anche quattro, fino a 99 anni. Il recupero della memoria passa anche dal recupero dei cimeli, la torretta che oggi fa bella mostra a Gaeta è stata recuperata grazie a Betason, che l'ha scoperta a Ortona, ormai un pezzo di ruggine, e grazie alla collaborazione con Anmi Monfalcone è stata recuperata e riportata a Nuova Vita, fino a quando è stato poi scelto di musealizzarla a Gaeta. I dati ovviamente non potevano non essere raccolti anche su carta, che viene amata molto di più del web da chi ha qualche anno in più sulle spalle, e quindi anche libri, saggi, come aveva detto Atlantica, che mi è dispiaciuto vedere il mio nome sulla copertina, perché è stato un lavoro di gruppo, quello che ha portato allo sviluppo di questa raccolta, molto molto particolare. Il modellismo, e prima di passare la parola ad Antonio Raspa, vi farò vedere la nostra ultima opera, che è esattamente quella che state vedendo, e il modellismo che non è solamente reale, quindi pezzi di legno, plastica, quello che è che prende una forma, ma anche virtuale, con la ricostruzione di quelli che possono essere gli interni, o la ricerca di dettagli sui nostri sommergibili del passato, in questa foto, in particolare il del Pino, scusate, avevo dimenticato il telefonino acceso. Un momento che almeno una volta all'anno, ma più spesso, prende forma per la nostra comunità, è il raduno o licenza, a seconda dell'importanza che assume questo evento. Sono i momenti in cui il gruppo, l'associazione, invece di riunirsi sul web, si riunisce realmente. Vengono accompagnati mediamente nelle basi della Marina Militare, non solo, ma soprattutto, visite di sommergibili, di unità navali, di strutture, per poter toccare con mano quello che viene raccontato attraverso il web. Ovviamente i nostri reduci, nella foto state vedendo Capo Ghezzi, ci accompagnavano in queste visite, raccontandoci quello che era il loro passato e letteralmente facendoci fare un'immersione. Entrambe le foto sono molto particolari perché risalgono all'unico momento in cui l'associazione è andata all'estero e non poteva che andare a Bordeaux, dove siamo andati a portare il nostro saluto a chi non c'era più, in questa pagina, in questa fotografia, emblematica, dove ci siamo io e Antonio Raspa con un cusino di fiori che sta per essere buttato sul fiume di Bordeaux, da dove salpavano i nostri reduci, alla presenza di Capo Ghezzi, un reduce, e col nipote dell'ammiraglio Polacchini, che comandava la base, a leggere la preghiera del mariano. Ma infine, per essere sincero, poi a monte di tutto quello che succede in questi raduni è una riunione di amici. Io chiedo il perdono perché ci sono amici di elevatissimo spessore. Penso che molti avrete riconosciuto la signora Graziella Todoro, figlia della famosa medaglia d'oro. All'interno di questa foto ci sono altri reduci e altri figli di medaglie d'oro. Ma alla fine sono tanti amici che si riuniscono per andare a ritrovare la storia e approfondirla assieme. Con questo cedo la parola, solo per un attimo, a Marco Mietta, affinché possa mostrare il modellone di cui vi stavo parlando. Marco, hai la parola. Benissimo. Grazie a tutti. Ti mostro, sperando che ci stia nello schermo, devo fare un passo indietro perché come vedete parliamo di un modello di un metro di lunghezza, riproduzione del sottomarino Delfino nella sua versione 1900. Spero che l'illuminazione sia decente, non lo è. Comunque parliamo di qualcosa di molto dettagliato che è stato oggetto di un lavoro di circa un anno ormai. Fra l'altro, questo modello ha già un fratello che ha avuto una storia abbastanza importante in quanto adesso la riproduzione del modello versione 1895 del Delfino è stato donato alla scuola sommergibile e quindi ora fa bella mostra di sé nella sala storica della stessa scuola. Questo è il modello. Fra un po' avrete altre notizie di lui sul forum. Grazie Marco. Antonio, ti restituisco la parola. È tutto tuo il forum. Allora, come accennava Marco, un aspetto che man mano è venuto alla nostra attenzione è stata la complessa macchina logistica che era alle spalle dell'operazione in Atlantico. Vorrei anche dire la decisione di arrivare a Bordeaux e di installare la base è stata presa molto in fretta ma assolutamente non è stata presa la leggera anzi, si percepisce e poi si capisce che dietro questa attività messa in piedi molto in fretta c'è stato un lavoro di pianificazione veramente importante. Senza entrare troppo nel dettaglio volevo però dare un attimo ok, giusto per dare un primo dettaglio su qual era la situazione nell'estate del 40 appena dopo l'ingresso in guerra il 10 giugno del 1940 l'Italia si trovava di fatto chiusa all'interno del Mediterraneo con relativamente ridotte attività belliche nel Mediterraneo stesso e ovviamente con la decisione la volontà strategica di andare fuori dal Mediterraneo con il grosso problema di doversi confrontare con il passaggio da Gibilterra che ovviamente bloccava le unità di superficie ma per fortuna non bloccava le unità subacque già da tempo gli italiani avevano studiato il passaggio da Gibilterra in immersione e avevano diciamo non una conoscenza approfondita ma avevano perlomeno confidenza con le correnti insidiose dello stretto era stato anche previsto un punto di appoggio a Cadice in Spagna la cosiddetta base C però per la neutralità del paese spagnolo durante il conflitto era da usare solo in emergenza a Cadice era stata bloccata diciamo tra virgolette la petroliera Fulgor che serviva proprio per rifornire i sommergibili in caso di emergenza intanto i tedeschi avevano occupato la Francia i vasi occupato la Francia e la Francia è stata suddivisa in due grossi settori c'era la Francia occupata dalle forze tedesche più la Francia di Vichy il contrammiraglio Parona inizia subito nel mese di luglio a ispezionare i vari porti sulla costa atlantica il porto di Lorien era il porto principale più interessante ed era già stato preso dai tedeschi per essere convertito in base dei sommergibili i porti di Saint-Nazaire e di Nantes erano interessanti ma non erano immediatamente utilizzabili perché c'era la presenza di mine per cui c'era da fare una grossa attività di sminamento sia del porto ma soprattutto degli accessi al porto i porti di La Palisse Leverdon Poyac e Rochefort invece erano dei porti decisamente piccoli con ridotte attrezzature tecniche e Bordeaux invece era un porto che era attrezzato con moltissime officine e cantieri navali era adeguato per ripristinare i rifornimenti dei battelli per la prima delle emissioni poteva altresì effettuare interventi specialistici non aveva problema ad ricaricare batterie e aria compressa nonché grazie alla presenza dei cantieri navali effettuare grandi riparazioni o modifiche importanti ai battelli però si assistevano delle perplessità riguardo a Bordeaux la principale era dovuta al fatto che il porto di Bordeaux non era sul mare ma era all'interno dell'estuario della Gironda e distava circa 50 miglia dal mare altresì nonostante questa distanza importante la marea si sente in maniera molto forte anche a 50 km di distanza perché le maree sono quelle dell'oceano Atlantico però diciamo che queste perplessità erano pesavano molto meno dei benefici che poteva offrire il porto di Bordeaux il 10 agosto Parona incontra Dönitz e concordano sulle linee generali per l'attività italiana in Atlantico per inciso all'inizio gli italiani offrono di sottostare al comando tedesco per le operazioni la parte tedesca sia per diciamo buona educazione ma anche per opportunità viene invece deciso di declinare questa offerta e viene invece concordato che gli italiani si coordineranno con il comando tedesco ma saranno indipendenti dal punto di vista operativo tutto questo poi evolve e il 23 agosto Supermarina decide di costituire il gruppo sommergibili atlantici con base a Bordeaux e decorrenza dal primo settembre scusatemi ho sbagliato qualcina primo settembre 1940 nasce Betasom questo sono i fogli ufficiali in cui viene assegnato il comando al contramiglaglio Parona con Cocchia Capone Demoratti Giudice Auconi e Fenu rispettivamente capo di stato maggiore comandante della base servizio comunicazioni servizio operazioni servizio armi e servizio logistico genio navale si concretizza l'idea di proiettarsi fuori dal Mediterraneo con la componente subacquea e questo diventerà reale con missioni che vanno alle coste americane coste del Brasile fino a Sudafrica e oltre nella parte finale del conflitto si riaggiungeranno l'Oriente e il Giappone per trasporto di materiali ma questo è tutto ovviamente molto noto e non è oggetto della presentazione facciamo un salto all'indietto un salto in avanti di 70 anni nel settembre 2010 come già accennato da Marco l'associazione decide di pubblicare Vedetta Atlantica Vedetta Atlantica era un giornalino ciclostilato pubblicato all'interno della base il lavoro Vedetta Atlantica verrà raccontata e spiegata in dettaglio nella prossima conferenza però mi preme sottolineare che Vedetta Atlantica è piena di tanti aneddoti relativi alla vita dei marinai a Bordeaux vita nella base e anche vita fuori dalla base per cui cresce man mano che lavoriamo sulla redazione di questa ripubblicazione di questo documento il desiderio di capire anche come vivessero i marinai a Bordeaux e ovviamente sia parlando con i reduci che per fortuna ci raccontavano la loro vita e anche andando a cercare di capire in quali luoghi avevano vissuto e qui iniziano diciamo a esserci anche sollevarsi alcune perplessità le informazioni a riguardo non sono molte probabilmente il documento più interessante è questa cartina che delinea la situazione bellica logistica bellica dell'area di Bordeaux ma non dà molte altre informazioni nel settembre 2011 mi capita di dover andare per lavoro a Bordeaux e quindi mi organizzo per riuscire a visitare avere una esperienza diretta dei luoghi e soprattutto andare a cercare i luoghi delineati da questa cartina tutto parte con migliori aspicci l'auto prenotata non è disponibile mi viene dato questo bellissimo coupé dall'autonoleggio e a quel punto in un pomeriggio in una mattinata a cavallo della mia conferenza ho modo di scorrazzare per i dintorni di Bordeaux la prima meta è abbastanza chiara è a Gradignan a sud ovest di Bordeaux per andare a cercare il comando il comando è appunto a Gradignan nella frazione di Molin d'Ornon vado all'ufficio del turismo di Gradignan e senza problemi mi dicono come raggiungere Molin d'Ornon è una località abbastanza ristretta con pochi edifici e qui arriva la prima sorpresa per arrivare al comando si passa da una strada che si chiama Rue des Italiens addirittura dopo 70 anni quella strada lì è stata chiamata Rue des Italiens perché c'è stata una forte presenza italiana durante il periodo bellico il secondo obiettivo è andare a cercare il castello Rue e il castello Tau sono i due castelli che erano riservati per alloggiare gli ufficiali il castello Rue era il nome in codice per indicare lo Chateau Rabat a Talens e è molto facile perché all'ufficio del turismo ci dicono subito che Talens è lì vicino ci dicono anche la strada si raggiunge e si trova lo Chateau Rabat purtroppo versa in cattive condizioni non è più abitato ed è anche si può accedere fino a un certo punto poi è zona privata è chiuso invece il castello Tau inizia a essere il primo punto critico il castello Tau viene denominato in quelle poche note che abbiamo Chateau Tresier o Tresiette all'ufficio del turismo mi guardano sorpresi probabilmente non tanto per la difficoltà di parlarsi tra italiani e francesi in inglese ma perché non esiste nessun castello a questo punto viene in mente la sigla Betasom il nome Betasom nasce da con un'assoluta mancanza di fantasia Beta da B di Bordeaux e Somme sommergibili castello Ro è la prima lettera di Rabat torniamo all'ufficio del turismo e la signorina molto gentilmente inizia a controllare tutto l'elenco degli Chateau delle residenze di campagna della zona e fortunatamente viene fuori un castello l'unico castello con la prima lettera è la T e lo Chateau Tosier scritto in italiano Tauzia l'unica dove andare partiamo troviamo un altro bellissimo piano con il cartello divieto di ingresso proprietà privata ma confidenti della bellissima auto che avevamo perché si era associato anche un mio collega a quel punto ha mollato il lavoro che doveva fare ed è venuto via con me ci infiliamo in questo viale alberato e in fondo al viale alberato ci troviamo di fronte un bellissimo castello e i proprietari sono sul terrazzo che fantastici proprietari che ci invitano a prendere il tè con loro chiacchieriamo e ci raccontano e ci dicono che sì è vero quello è il castello che era stato occupato dagli ufficiali italiani durante il periodo bellico per l'impizzo ci dicono che non hanno trovato dei grossi danni tenete presente che eravamo in guerra per cui gli ufficiali andavano venivano l'unica nota è che di cui si lamenta la signora è il danneggiamento al parquet dell'ingresso a causa di una stufa cioè la stufa ha bruciato il parquet e qui il mio pensiero è andato subito ai racconti del comandante Rossetto che mi diceva di quanto fossero freddi gli alloggi del fatto che avevano accesa la stufa giorno e notte ma non si riusciva a riscaldare quel castello il loro alloggio proseguiamo per cui scusate ho ancora sbagliato no scusatemi seconda giornata di visite andiamo ai bacini i bacini li avevamo lasciati per ultimo perché tanto sapevamo dove andarli a trovare onestamente la prima impressione è stata abbastanza diciamo di sgomento di delusione ero arrivato lì immaginando i bacini come vissi attraverso le centinaia di foto che abbiamo e di fatto non c'era niente che richiamasse la memoria di quello che avevamo visto sulle foto come aveva detto poi Attilio Ghezzi quando siamo stati a Bordeaux solo l'acqua l'acqua sporca era rimasta uguale ad allora tutto il resto ero veramente perso l'unica cosa che mi aveva colpito ritrovavo le bitte strane le strane bitte che c'erano che si vedono nelle foto delle chiuse dell'epoca bitte realizzate tramite che derivano da vecchi cannoni piantati nel cemento molto caratteristiche per cui diciamo che vengo via da Bordeaux con un po' di delusione un po' di sgomento ma perché c'è la sensazione che tutto quello che noi avevamo in mente nel tempo è passato d'altra parte sono trascorsi 70 anni è normale che dopo 70 anni dopo il periodo di ricostruzione bellico il tessuto urbanistico sia cambiato per cui probabilmente era una mia illusione pensare di ritrovare Betasom congelata per 70 anni e si forma la consapevolezza invece di andare a capire meglio cosa è successo in questi 70 anni e recuperare quanto più possibile la memoria e lo stimolo ulteriore è stato tornando a casa andare a riguardare le foto come vedete non è vero che era tutto perso c'erano dei piccoli frammenti che tuttora si mantenevano per cui andando a rivedere le foto fatte in quei giorni ritrovo la stesso edificio che si vede nella foto dell'epoca quindi occorre capire meglio e inizio a raccogliere il più possibile documentazione su Bordeaux dopo il conflitto ma anche prima qui in particolare si possono notare questa è una piantina una foto aerea fatta negli anni 30 che mostra la zona dei bacini e dei cantieri questo è lo schema della base dei sommergibili quella molto nota a tutti e quella diciamo classica in questa ricerca poi iniziano a venire fuori tante sorprese per esempio l'esistenza di questa cartina del servizio segreto americano l'OSS intorno al 1942 e 1943 questa è stata ovviamente predisposta per le operazioni di invasione della Francia e in particolare di Bordeaux qui la vedete in bassa risoluzione ma è disponibile in alta risoluzione ed è incredibile il livello di dettaglio e di precisione di questa cartina altro documento interessante invece è questa foto aerea è una foto aerea della ricredizione aerea inglese intorno al 1942 per cui dà una visione esatta di quale fosse la situazione e di quale fosse la pressione degli alleati su Bordeaux stessa non meno importanti sono altri documenti come per esempio lo schema preciso di qual era la rete ferroviaria e la rete tramviaria nell'intorno di Bordeaux intanto come già spiegato da Marco si concretizza un'altra idea andare a Bordeaux per cui nella prima 2013 si va a Bordeaux con un gruppo bellissimo di partecipanti persona più importante che ci accompagna è sicuramente il Attilio Ghezzi che anzi è forse stato la molla per andare a Bordeaux perché durante tra il 2011 e il 2013 io continuavo a chiedere domande e facevo richiesta di informazioni sia ad Attilio Ghezzi che al comandante Rossetto per capire meglio com'era organizzata la città di Bordeaux e com'era la loro vita e devo dire che questi ragazzi questi ragazzi che facevano mesi imbarcati tra mille pericoli tornando indietro invece quando finalmente erano a terra si comportavano come i marinai nel più classico stereotipo anche cinematografico per cui effettivamente dovevano rilasciare la loro tensione nervosa e si divertivano a Bordeaux nonostante tutto avevano modo di divertirsi il comandante Rossetto tra le tante cose mi ha indicato e spiegato quale fosse il bar dove lui andava a prendere degli aperitivi era un bar sulla piazza principale di Bordeaux faceva parte era il ristorante e bar di un albergo molto importante e famoso e lui si ritrovava lì con gli ufficiali italiani e gli ufficiali tedeschi sull'altro versante diciamo dei marinai Attilio Ghezzi quando quando gli faccio queste domande inizia a chiedere un paio di volte di piazza Gambetta Gambetta e mi chiede se l'ho conosciuta se l'ho ho iniziato a inquadrarla diciamo nelle mie ricerche e dopo un po' inizio a capire anche il perché infatti è stato divertente quando ci siamo visti e quando gli ho detto ma il motivo di chiedere di piazza Gambetta è perché era il punto dove vi portava o il tram dalla base al centro di Bordeaux oppure il punto dove vi scaricavano i camion che arrivavano dai vostri acquartieramenti e perché lì era il centro di Bordeaux dove c'erano tutti i ristoranti ho un ricordo bellissimo del signore Attilio Ghezzi parlava pochissimo dell'esperienza bellica ma quando abbiamo iniziato a toccare questo argomento ha iniziato con dei sogghigni dei sorrisi veramente enigmatici e poi man mano si è aperto siamo andati in giro per Bordeaux e abbiamo ho capito che da una parte tra piazza Gambetta e il fiume c'era una grandissima serie di ristoranti e di bistrò dove i marinai ovviamente passavano i loro momenti liberi e poi adiacenti c'era anche il cosiddetto quartiere a luci rosse questo è stato una grossa sorpresa però non ci si è sorprendente siamo negli anni 40 le case chiuse erano legali legali in Italia come erano legali anche in Francia e ovviamente questo faceva parte anche della vita e con il signor Attiglia abbiamo anche passeggiato nelle vie adiacenti e lui mi indicava quello che lui si ricordava per cui è stato da un lato bellissimo questa esperienza ma soprattutto questa visita a questo momento è stato una grossa spinta a procedere nel ricercare tutti i luoghi dove avevano vissuto gli italiani per capire com'era stata la loro esperienza la loro vita in quegli anni questa è diciamo un po' la sintesi di quei giorni grazie alla vice console Felici abbiamo avuto modo anche di visitare il bunker tedesco e di avere accesso molto privilegiato al tetto dal tetto si aveva questa bellissima vista dei bacini era anche cambiato il mio modo di vedere non ero più deluso perché non vedevo i bacini così come erano ma ero fortemente attratto perché iniziavo a vedere tanti piccoli dettagli che erano quelli che ritrovavo nelle foto per andare a Bordeaux pungolato da Marco avevamo anche pensato di preparare una piccola guida un piccolo vatamecon per sapere i punti principali da visitare il raduno a Bordeaux era compriva due giorni per cui in due giorni era molto difficile per cui bisognava anche organizzarsi per andare a vedere i punti più importanti di Bordeaux venuti via da Bordeaux non solo questo vatamecon è stato molto utile ma c'era tantissimo altro materiale da raccogliere io ho continuato a raccogliere il materiale diciamo che in questo momento il materiale è circa completato al 99% l'idea sarebbe anche di tradurre quanto trovato in inglese e francese però il testo e il lavoro di raccolta dei dati è in italiano perlomeno è stato completato scusate un attimo torno indietro allora come dicevo il lavoro è stato completato ho una immagine abbastanza completa e dettagliata di quale fosse l'organizzazione a Bordeaux e a questo punto per questa presentazione vorrei farvi vorrei mostrarvi Bordeaux e questa struttura però da un punto di vista diverso arriviamo a Bordeaux non come faremo noi in aereo oppure in auto arriviamoci come arrivavano i battelli per cui noi stiamo arrivando vi guiderò man mano a Bordeaux arrivando dal mare e vedendo man mano che cosa succede e iscrivendone la struttura logistica perché troveremo tanti luoghi importanti come dicevamo all'inizio Parona e Leritz concordano il coordinamento tra le forze italiane e le forze tedesche arrivando a Bordeaux in battello sicuramente ci metteremo in contatto con la radio di Betasson per segnalare il nostro avvicinamento e il comando di Betasson si coordina con l'aeroporto di Berignac l'aeroporto di Bordeaux dove a base una squadriglia di ricognitori a lunga distanza i Focke-Wulf 200 Condor che operavano sia come bombardamento che come aerosiloranti che come ricognizione aerea questa squadriglia di fatto era il primo punto di contatto dei nostri battelli con il duplice scopo uno di agganciare il battello e di guidarlo verso sottocosta e soprattutto di monitorare l'attività degli alleati sia per quanto riguarda unità di superficie o sommergibili nemici piuttosto che scongiurare la presenza di aeroplani alleati che ovviamente facevano la posta di fronte all'estuario della Gironda ci avviciniamo dunque alla costa e sottocosta quando iniziamo ad arrivare a sottocosta veniamo presi in carico e scortati invece dalla seconda flottiglia di sparebreaker gli sparebreaker erano delle navi mercantili rinforzate con lastre di acciaio lungo la carena erano navi mercantili abbastanza grosse che aprivano la strada ai nostri battelli sia in uscita che in ingresso lo scopo era di attivare se vi fossero le mine magnetiche su queste grosse unità mercantili lo scoppio di una mina non creava grossi problemi per cui il nostro sommergibile si metteva in scia allo sparebreaker e veniva guidato dentro o fuori dall'estuario in una zona sicura Royan è sulla riva destra del fiume e da lì c'era un'unità operativa marittima delle forze tedesche appena entrati nell'estuario c'era un altro punto di appoggio che era sull'Axurmer come dicevo la squadriglia ci scortava sia in uscita che in ingresso in uscita se vi fossero stati dei problemi c'era poi la possibilità di non risalire tutto l'estuario vi ricordate che ho parlato di 8 e 50 miglia per risalire l'estuario a quel punto era molto più comodo dirigersi verso il porto di La Palisse dove era in costruzione una base secondaria per i sommegbi tedeschi e comunque poteva offrire un adeguato supporto per risolvere piccole problematiche tecniche siamo quindi giunti all'interno dell'estuario e iniziamo a percorrere il lungo estuario il lungo estuario prevedeva diversi punti di attracco e di supporto a terra non eravamo semplicemente dovevamo semplicemente la base di Bordeaux che era la nostra meta finale appena all'interno dell'estuario all'Everdon c'era una banchina per il rifornimento di acqua e carburante in uscita i battelli lasciavano Bordeaux con al massimo la metà dei serbatoi pieni perché dovevano scendere lungo tutto il fiume evitando le secche il fiume è abbastanza complicato ci sono forti correnti c'è la corrente del fiume più forti correnti di maree e diverse secche per cui si usciva con metà serbatoi si attraccava all'Everdon e all'Everdon si faceva il completamento del rifornimento di acqua e carburante poi si veniva accompagnati fuori e se vi erano problemi di assetto ci si dirigeva la palisse entriamo nell'estuario a metà del percorso c'era un altro punto di attracco il porto di Poyac il porto di Poyac era il punto di fermata se la marea non era favorevole chiaramente non era sempre possibile arrivare a Bordeaux nel momento della marea favorevole ma i sommergibili venivano ovviamente instradati per entrare il più possibile nell'estuario in zona sicura e se la marea non permetteva di risalire ci si fermava in attesa della marea favorevole a Poyac spesso a Poyac arrivavano anche il comandante Capone e il pilota il pilota che guidava il sommergibile nell'ultima parte nella seconda metà da Poyac a Bordeaux scusatemi a Bordeaux è interessante osservare che comunque oltre a Bordeaux c'era poi tutta una serie di altre località a sud ovest di Bordeaux c'era i castelli di cui abbiamo nominato con gli alloggi degli ufficiali il comando a Gradignan e gli acquartieramenti a Canejan il cosiddetto campeggio case di legno baracche di legno fatte in una pineta per proteggere degli attacchi aerei più in là di Canejan c'era addirittura un deposito degli esplosivi quasi da subito già all'inizio del 1941 gli esplosivi che all'inizio erano mantenuti all'interno del bacino su una bettolina vengono spostati lontano dalla base viene predisposta un deposito una poliera a Pierroton è un luogo abbastanza sperduto ma è a poche centinaia di metri dalla linea ferroviaria per cui la scelta non è stata casuale altra scelta interessante è è stato il deposito secondario di esplosivi tramite un amico francese appassionato di bunker si è scoperto che esiste una copia un gemello del bunker di Pierroton i tedeschi costruivano il loro bunker seguendo una pianificazione direi totalmente germanica erano tutti pronti i disegni per fare i bunker in maniera ripetitiva questo per velocizzare la costruzione ovviamente però c'erano dei bunker diversi dal solido bunker speciali come i bunker di Pierroton il bunker di Pierroton supponevo che fosse unico e invece ha la copia la copia è invece a nord di Bordeaux la Bordeaux è Grattecchina perdonate il francese lo leggo all'italiana non è mai stato utilizzato come deposito ma probabilmente era pensato per duplicare il deposito di Pierroton dall'altra parte per sicurezza e anche questo in prossimità della linea ferroviaria per cui man mano si capisce che il lavoro di Parona e soprattutto del genio navale è stato molto importante nell'organizzare la logistica della base comunque ritorniamo in navigazione e continuiamo a risalire la la Garonna per arrivare alla nostra meta finale il bacino c'è una foto molto classica qui in basso che è la foto dell'ingresso nelle chiuse la maggior parte delle foto che noi abbiamo di Bordeaux di Betasom sono dei nostri battelli che entrano nella chiusa è molto interessante peraltro la foto che ci è stata data da Polacchini fa parte della collezione dell'ammiraglio Romolo Polacchini guardando la foto si capisce sicuramente che qui siamo risalendo il fiume e i marinai hanno appena ricevuto la posta in questo momento loro stanno pensando ormai che si è completata la missione sono spariti la stanchezza la tensione è un momento dove inizia finalmente il relax e stanno pregustando l'arrivo in bacino in alto a sinistra vediamo il bacino come c'è stato passato tramandato in questi anni e nel cerchietto blu vediamo anche quella bit una delle bitte che mi erano subito colpito entriamo nel bacino vediamo com'era il bacino iniziamo da una foto molto classica dell'ufficio storico in cui si vede il battello che si sta muovendo all'interno del bacino e poi passiamo ad altre due foto prese ad angolature diverse sicuramente l'ultima foto della collezione Prachi merita il premio per lo scatto più ardito perché la foto dell'ufficio storico è al 99% è stata presa dal tetto di questo edificio perché non è molto in alto rispetto alla banchina questa foto è stata invece presa dal silos di un edificio che era in prossimità delle chiuse siamo molto più alti tant'è che si vede il tetto dell'edificio della base ma come dicevo il premio per la foto più ardita spetta a Todaro non ci si può stupire di quello che facesse la medaglia d'oro perché in quel caso per fare la foto del battello era salito su una gru del porto per cui questa foto è stata scattata da circa 20-25 metri di altezza e l'altra cosa interessante è che queste foto mostrano analogie con lo schema ma non sono esattamente come dallo schema andiamo su di grado ovviamente passando da comandante Todaro all'ammiraglio Parona l'ammiraglio Parona si poteva tra virgolette permettere una vista più elevata dei bacini è stato interessante individuare al museo storico di Trento la collezione di foto di Parona dove tre quarti delle foto sono proprio relative a Bordeaux questa foto è bellissima perché non solo è una foto ma su questa foto ci sono le indicazioni e i numerini fatte da Parona stessi ancora più interessante è il fatto che questa foto è montata nell'album su una velina battuta a macchina da scrivere dove ci sono dettagliate dove c'è tutta la diascalia dei numerini della foto sicuramente questa foto qua ha una gemella o probabilmente una foto analoga a Roma si può immaginare facilmente che Parona dovesse riportare a Supermarina qual è la situazione della base e qual è la situazione operativa e cosa di meglio effettuare una ricognizione aerea con supporto di un ricognitore tedesco in modo da poter sorvolare la base e dare una chiara indicazione di come fosse stata organizzata la base una nota si vede molto bene ad esempio col 12 il cosiddetto bacino era un bacino di compenso perché i due bacini principali quello che occupava numero 1 che occupava Betasone e il numero 2 qui nel fondo erano quelli utilizzati dai sommergiti diciamo questo era il bacino utilizzato da Betasone e poi c'era un altro bacino utilizzato normalmente per le navi in periodo prebellico e questo bacino invece era diventato il bacino di Betasone come dicevamo a Bordeaux si sentivano tantissimo le maree per cui in questa area c'era un ulteriore bacino che forniva l'acqua di compensazione per eventuali abbassamenti quando si aprivano le chiuse ancora più interessante è il fatto di aver scoperto individuato in questo album la sequenza fotografica ovviamente erano state scattate diverse foto per cui c'è tutta la sequenza fotografica che mostra il sorvolo della zona di Betasone grazie alla curatrice del museo ho anche potuto avere una foto del retro di questi scatti che ci dice la data 13 novembre 1940 ore 17 il resto dei timbri eccetera sono tedeschi ovviamente erano notizie importanti notizie insensibili per cui c'era sia la valutazione da parte dell'ammiraglio Parona che dai tedeschi e l'approvazione di questi documenti la cosa più bella è andare poi a osservare il dettaglio di queste foto sembra una è una foto che ci permette di andare a vedere i dettagli e in particolare si scopre che c'è un battello un sommergibile più piccolo degli altri molto più piccolo degli altri posso senz'altro affermare che si tratta del largo questo perché abbiamo la data e non è difficilissimo andare a cercare quali fossero i battelli presenti per diciamo deduzione pensando ai battelli che erano in navigazione o l'emissione devo dire qua che ho avuto un grandissimo aiuto da parte del comandante Mario Rossetto che ha preparato una specie di diagramma temporale di tutta l'attività dei sommergibili di Betasol e in uno dei nostri collochi mi ha dato questo che per lui era una brutta copia invece è un documento bellissimo e potete capire che qui è facilissimo eravamo a novembre si scorrono tutte le emissioni dei vari sommergibili e gli otto battelli che io vedo sulla foto a dire la verità io ne vedo sette ho un dubbio sull'ottavo perché è poco chiara la foto perché è dietro a questo edificio si percepisce un'ombra che potrebbe essere l'ottavo battello si possono individuare i nomi degli otto battelli e scorrendoli si vedono che ci sono sette battelli oceanici grandi e largo un po' più piccolo e si può trovare la posizione esatta che torna esattamente con le inquadrature tipiche del largo a suo arrivo a Betason comunque come vedete la mole dei documenti è veramente importante e soprattutto la cosa bella è che iniziano a tornare i legami tra tutti questi documenti non sono documenti sparsi ma sono documenti che parlano l'uno con l'altro sicuramente in questo lavoro come si diceva dall'inizio viene fuori la consapevolezza di una grande organizzazione logistica dietro alle attività operative in mare il risultato di questo lavoro è moltefice una cosa interessante è stata la ricostruzione dettagliata della base e soprattutto non solo dettagliate in termini spaziali in termini di luoghi ma addirittura in termini temporali per cui come associazione siamo usciti a ricreare perlomeno tre grosse cartine che sono quelle relative al periodo 1940-41 cioè all'arrivo a Betason la sua evoluzione ovviamente la logistica non si fermava man mano che si lavorava e si viveva a Betason si aggiungeva e si modificava la struttura della base peraltro erano partiti anche i lavori per la costruzione del bunker tedesco per cui tra il 1942-43 si completa la costruzione del bunker si modifica la forma del bacino numero 2 e la cosa interessante è che ovviamente si può anche individuare qual è stata l'evoluzione tra il 1943-44 con il bunker tedesco ormai pronto e con la configurazione con la realizzazione di una rete difensiva intorno alla base che assumeva un'importanza sempre maggiore per cui quella che lì si vede delineata in viola era la zona coperta da cannoni contro carro disposti in appositi bunker tutti intorno alla base per proteggerlo come ultima roccaforte in caso di attacco diretto da terra da terra ultima ma non meno interessante è la presenza la realizzazione di una cartina interattiva su quel sito che ha citato Marco all'inizio in questo sito noi stiamo cercando di raccogliere man mano tutte le informazioni in maniera strutturata una sezione di questo sito è proprio dedicato a betasone ed è interattivo se uno va col mouse passa sui punti evidenziati da certi liri si aprono delle foto che mostrano allora e oggi com'è quel sito per cui uno può fare una visita virtuale della base e dei dintorni ma come è venuta fuori questa base allora il lavoro che ci è stato dietro è stato veramente lunghissimo e devo dare atto alla mia famiglia e mia moglie di aver avuto pazienza quando sparivo per ore e ore a lavorare sui diversi documenti diverse cartine questo è il dettaglio della situazione nel 1940 è una immagine ancora in bassa risoluzione se uno ha a disposizione il documento elettronico può ingrandire tantissimo questa foto e andare a vedere tantissimi dettagli una delle tante sorprese che sono venute fuori è ad esempio che betasone la vera base betasone non era limitata a questo bacino bacino circondato da recinto ma c'era non neanche un appendice c'era un'altra parte molto importante proprio lungo la garonna questa sezione nasce originariamente come la parte chiusa dalla dogana la parte portuale chiusa dalla dogana di Bordeaux è stata ovviamente subito requisita dalle forze tedesche di occupazione e questo settore è stato assegnato agli italiani ovviamente non è citato la recinzione la recinzione era già preesistente inoltre inoltre tutta quest'area era soggetta a restrizioni di accesso per ovvie ragioni e a controllo da parte delle forze tedesche cosa molto interessante è che al di fuori del recinto principale e di questo recinto esiste un edificio questo qua nel quadratino rosso dove era la sede del comando ed è logico uno andava in visita o si recava a Betason doveva prima di tutto presentare nel comando e poi veniva accompagnato all'interno dei recinti e delle zone sensibili peraltro altra chicca qui di fronte è l'edificio dei piloti come si sapeva che un battello stava entrando oppure ci si doveva organizzare per uscire l'interazione tra il comando di Betason e le forze locali rappresentanti dell'autorità locale portuale che ovviamente volente o nolente collaborava con l'italo tedeschi era stretto cosa c'è dietro questa cartina come dicevo un lungo lavoro adesso vediamo brevemente come è nata questa cartina è nata dalla sovrapposizione di diverse cartine di diversi documenti qui vedete la prima cartina la prima foto aerea la foto dei servizi segreti americani una foto molto una cartina molto dettagliata dei pompieri di Bordeaux e io man mano ho ridisegnato la zona le strade i binari per inciso la parte del rosso sono i binari modificati degli italiani sono andato a individuare esattamente tutti i vari edifici utilizzati dagli italiani per cui qua inizia a prendere forma la base inizia a prendere forma la base con anche le varie garitte e i punti di controllo a questo punto il disegno è stato arricchito con le navi e i nostri battelli e siamo arrivati a disegnare la cartina e si scoprono altre cose interessanti ad esempio i punti di attracco del bacino 1 e del bacino 2 erano numerati dall'autorità portuale francese i francesi in tutti i loro documenti fanno riferimento per spiegare se andare in un punto della banchina dicevano attracco numero 6 attracco numero 7 e le navi sapevano dove attraccare questa cosa è stata molto interessante e lo vedremo più avanti e poi si sono scoperte anche altre chicche due o tre chicche ve le mostrerò alla fine di questa presentazione come dicevo comunque è stato possibile vedere com'era la base negli anni 40 questa cartina in particolare parla degli anni 40 però direi che bisogna essere leggermente più fessibili siamo tra il settembre del 40 e il dicembre del 41 perché alcune di queste costruzioni non è stato molto non è stato possibile individuare il momento esatto della loro costruzione cosa succede dopo qui siamo ad esempio nel 41 42 con diciamo fino alla primavera del 43 come vedete la grossa novità è la presenza del del bunker tedesco per accogliere gli u-boot tedeschi e la modifica completa del bacino 2 che risulta molto più esteso questo era dall'indicazione di come era una volta altra cosa molto interessante e non secondaria è l'aumento del binario si allarga la zona di questa aumentano i binari in questa zona aumentano i binari in questa zona e diventa più complessa la ramificazione di binari che dalla questo scalomerci e dalla stazione di San Luis la stazione di San Luis non viene intaccata viene però modificato pesantemente lo scalomerci e tutta la ramificazione dei binari all'interno della parte tedesca e della parte italiana come accennavo i tedeschi avevano anche pianificato la difesa di quest'area questo è il documento originale tedesco che ovviamente in questa sovrapposizione di immagini è un po' di difficile lettura passiamo alla mia elaborazione in cui si vedono chiaramente i singoli bunker che erano i bunker per gli cannoni da 88 in versione contro carro predisposti in modo da avere un tiro incrociato e coprire completamente il perimetro della base l'unico parte di perimetro scoperto è nella parte diciamo della costa qui in alto però in particolare era stato protetto ad esempio l'ingresso delle chiuse questa parte di edifici venne invece completamente raso a suolo in modo da rendere libero il tiro dei cannoni torniamo invece a focalizzarci un po' meglio sulla base e come vi dicevo questo è l'evoluzione del del disegno questo è com'era la base e come vi ho accennato ci sono tre chicche che vi voglio mostrare uno è in quest'area uno è in quest'area e niente c'è un piccolo errore della presentazione il terzo è in quest'area sono cose molto interessanti e molto particolari poco note forse anche inedite andando a guardare le foto di Betasson raccolte tramite i vari reduci e dei fondi delle collezioni private è saltato fuori una cosa estremamente strana in mezzo a Betasson c'era un'automotrice diesel elettrica francese e ovviamente voi diciamo ma che ci fa un treno poi è piazzato veramente in mezzo alle scatole non trovo modo diverso per definirlo era proprio lì in mezzo su un bacino in una zona di cui non appariva l'utilità qui è venuto in aiuto da un lato la piccola descrizione che c'era dietro la foto ma soprattutto l'aiuto nei collochi con il comandante Rossetto allora questa in mezzo è la foto trovata all'Ami di Milano che parla di impianto di degaussing ovvero l'impianto di smagnetizzazione e come vedete questa foto si vede molto bene questo treno piazzato lì proprio in uno dei punti diciamo importanti per la logistica di Betason e si ritrova qua per cui sappiamo esattamente dove era era in fondo alla parte del bacino ed è lì mi sarei aspettato ovviamente dei carri merci ma un vagon un treno di questo genere era del tutto inaspettato ancora più rispettato tramite un forum francese e la scoperta che invece alla Palis c'erano due di queste motrici e qui c'è la foto in seguito al bombardamento del 1943 dove è stato distrutto uno di queste motrici il comandante il comandante Rossetto mi ha spiegato bene cos'era l'impianto di sbagnetizzazione e come funzionava di fatto il battello allora premessa i battelli di allora non hanno subito l'evoluzione tecnologica per cui non erano costruiti come i battelli correnti in materiale a magnetico per ridurre la tracciatura del battello stesso erano in acciaio resistente direi di qualità media non c'era questa conoscenza 70-80 anni fa per cui il battello era oggetto tra virgolette delle mine magnetiche e occorreva per evitare che venissero innescate le mine magnetiche in caso di passaggio vicino alle mine magnetiche che subisse un'adeguata magnetizzazione o smagnetizzazione a seconda di come si interpreta in modo che diventasse forse desensibilizzato rispetto alle mine questo si otteneva facendolo passare in un grosso campo magnetico come? sul fondo del bacino erano state emesse delle grosse spire di cavi il battello si allineava prendeva come riferimento la chiusa tra il bacino 1 e il bacino 2 il canale di accesso e una boa si metteva in questa posizione e si muoveva lentamente sopra le spire perché le spire erano state poste qui sotto e ovviamente le spire andavano alimentate con correnti elevate l'auto motrice semplicemente si essero staccati i cavi di collegamento tra il motore diesel scusate tra il generatore diesel e il motore elettrico che faceva andare il treno e si erano stati collegati a questi cavi disposti sul fondo del bacino per cui era possibile smagnetizzare o di rendere insensibile i battelli soprattutto per evitare che in uscita dal fiume potessero esplodere e venissero attivate le bine magnetiche un'altra chicca interessante è questa dov'è il CA2 il CA2 è il sommergibile tascabile riassumo molto brevemente perché penso che sia noto a tutti era il sommergibile tascabile che con cui si voleva fare una missione a sorpresa attaccando il porto di New York non era una missione da risvolti strategici ma soprattutto era importante il messaggio si voleva portare la guerra sul territorio degli Stati Uniti per cui era un progetto estremamente ambizioso da questo punto di vista con questo obiettivo a tale scopo si pensava ad utilizzare il mini sommergibile Caproni in CA2 trasportato in prossimità delle coste americane dal Da Vinci sfruttando proprio le capacità dei cantieri di Bordeaux il Da Vinci venne modificato venne predisposto una sella e un sistema di aggancio e di sgancio del sommergibile ma da un lato l'affondamento del Da Vinci rimandò la missione dall'altro il sopravvenire degli eventi armistiziali bloccò questa questa missione le notizie che noi abbiamo sono di fatto legate a quest'ultima foto centrale dove si vede il CA2 su un carro ferroviario come venne ritrovato dagli americani nel 1944 non si ha altra notizia o meglio non si aveva altra notizia andando a spulciare dei documenti francesi emerge che esisteva una struttura in muratura lunga 14 metri larga 6 metri col tetto ineterni in prossimità dell'ormeggio 8 che andava smantellato sto parlando dei documenti post bellici c'è una lunga lista una lunga documentazione di tutte le attività da fare da parte dei francesi per far ritornare operativo il bacino per cui in questa lista si parla dell'edificio del sous-marine de poche sommergibile e tascabile in questa lista in questo documento si parla della sua presenza vicino al posto numero 7 vi ricordate che ho sottolineato l'interesse per avere la denominazione esatta dei punti di orneggio il post 7 dice esattamente qual era il punto di ancoraggio poi esiste anche una cartina dettagliata del catastro diciamo francese della municipalità di Bordeaux in cui si vede proprio questo edificio e ci sono le misure esatte come dico e le misure tornano esattamente con le dimensioni del carro e a questo punto le mie supposizioni portano a dire che sicuramente non era opportuno lasciare il sommergibile in vista il tetto in Ethernet da un lato fa sorridere non offriva sicuramente nessuna protezione a un eventuale bombardamento ma lo scopo era nascondere il sommergibile alla vista della ricognizione aerea per cui diciamo torna anche il fatto che il supporto del sommergibile in questa foto sembra veramente non tanto un supporto destinato al trasporto dalla Spezia anzi dal lago di Seo a Bordeaux ma forse molto più semplicemente la culla dove appoggiare il sommergibile quando lo si tirava su dal Da Vinci e seguendo questo discorso direi che si può anche supporre in maniera abbastanza realistica che questa foto che non ha nessun riferimento per capire dove sia stata scattata di fatto sia stata scattata o in prossimità dell'edificio stesso o in questo gruppo di binari e questo è abbastanza consistente pensando a una situazione realistica o è stato tirato fuori dal dai tedeschi o addirittura dagli alleati che sono arrivati trovando questo edificio chiuso probabilmente poco custodito hanno aperto e hanno tirato fuori il carro e hanno fatto poi una foto relativa un'esercizio che gli americani sia in Italia ma probabilmente anche a Bordeaux erano molto interessati alle nostre tecnologie per cui requisirono e trasferirono tutto quello che poterono compresi i sobergibili e gli sviluppi fatti al castellamale di Stabia e sull'urificio di Baia ultima chicca ma non meno importante e qui mi riaggancio al punto di partenza a Vedetta Atlantica va bene come ben sapete va bene c'è la cartina che indica dove siamo ma vi vorrei far evidenziare la vignetta in Vedetta Atlantica è piena di queste vignette frutto della fantasia e della penna sagace del disegnatore quali sono le ragioni della chiesa automobilistica di Betasom lui si chiede e qui è molto bella la vignetta perché in questa vignetta si vede questo edificio questo edificio qui tratteggiato è esattamente questo edificio e questo edificio sul porto che si affacciava sul fiume ed è qui si vede poco ma questo era il reparto mezzi il deposito reparto mezzi autofficina di Betasom e qui grazie ai racconti e alle foto di Andrea Fucci si è potuto capire chiaramente anche come era organizzata la parte le automobili questa in mezzo è stata la prima automobile dell'ammiraglio era una simca che insieme a queste e altre auto erano nella stiva del Degrasse che vennero scaricate sulla banchina e abbandonate finché Andrea Fucci appassionato di auto iniziò a gironzolare e chiese il permesso di ripararle non solo gli venne dato il permesso di provare a ripararle ma da allora divenne il responsabile o meglio l'autista dell'ammiraglio o come veniva scherzosamente chiamato da tutti l'autista di lusso perché lui era demandato il compito di guidare l'auto guidare l'auto che portava l'ammiraglio e tutti i personaggi importanti ho detto che questa è stata la prima auto dell'ammiraglio perché successivamente venne consegnata l'ammiraglio il comandante di Betasom ovviamente aveva un ruolo molto importante anche pubblico e anche l'immagine venne curata circa nel 41 gli venne consegnato una lancia 1500 fuori serie la carrozzeria venne realizzata dalla carrozzeria Viotti specializzata in auto speciali questa foto qui abbiamo l'evidenza di questa auto purtroppo non si vede la sua interezza ma si vede solo il dettaglio di questa bellissima decapottabile un'idea la si può avere anche nella vignetta se troviamo nella vignetta la vignetta ci dice tantissimo perché qui si può vedere la Simca che era stata declassata da auto dell'ammiraglio ad auto per gli ufficiali e appena dietro si vede la lancia 1500 e sono di fronte al comando di Gradignan questo è esattamente il comando di scusatevi di Mulindornon è quello è la struttura per cui chi ha disegnato questa vignetta conosceva benissimo e mi ha detto tutti questi luoghi ovviamente non riconosciamo facilmente ma questo è al 99% Andrea Fucci questo è l'ammiraglio Romolo Polacchini e insieme a lui in auto c'è Dönitz in una delle sue visite molto rare a Betason con questo io ho finito la presentazione vi ringrazio dalla vostra attenzione e mi scuso della lunghezza ma spero di aver sollevato la vostra curiosità e termino di mostrare la presentazione e sono eventualmente qua a disposizione per parlare per le vostre domande Marco vuoi dire qualcosa? sono ancora senza parole Antonio perché sapevo del tuo lavoro ma tante chicche che sono venute fuori oggi sono state come dire nuovamente una sorpresa anche se le conoscevo è stato qualcosa di inebriante per tornare ancora una volta nei luoghi di Betason però non vorrei forzare via posto alle domande per cui mi distacco e lascio un spazio alle domande ok penso che tutti se vogliate potete riattivare il video e poi magari vediamo di gestire man mano le domande in modo da non sovrapporsi magari adesso facciamo parlare Alessandro Di Capua che vedo con il dito alzato per primo buongiorno a tutti intanto complimenti bravissimo un'esposizione fantastica una domanda abbastanza semplice l'ingresso nel canale lungo la Garon era quindi affidato ai piloti piloti francesi giusto questo non era un po' un controsenso riguardo la sicurezza perché sappiamo tutti che tutte le manovre in ingresso e uscita sono manovre delicate quindi tutelate dal segreto affidarla a personale che non poteva a meno teoricamente anche garantire la sicurezza non era pericolosa sì l'osservazione è molto giusta però ed è anche quella che mi è arrivata subito in mente a me però bisogna considerare che in questo caso il pilota o meglio la navigazione per entrare era abbastanza lunga si impiegavano circa tra le 8 e le 12 ore a risalire tutto il fiume e qui devo dire che viene d'aiuto anche nel capire un po' al meccanismo da un lato il libro di Maronari tipicamente i piloti erano erano i piloti francesi perché loro conoscevano soprattutto le secche le correnti tra Bordeaux e Pogliac però non venivano preavvertiti gli si dava un avvertimento avevano un brevissimo periodo di preallerta infatti nel Maronari si parla che mentre stava arrivando il sommergibile Capone va dai piloti salta sul motoscafo salta sul motoscafo dei piloti insieme al pilota e va incontro al battello che stava già risaletto per conto suo probabilmente non c'è la chiarezza sull'operatività però immagino che di fatto da un lato si cercava di non far trappellare troppe informazioni verso i piloti però i piloti servivano i loro piloti locali dall'altro però la fase di risalita era abbastanza lunga per cui una ricognizione aerea magari fatta ogni 12 ore sicuramente evidenziava il battello che stava entrando nell'estuario e poi lo misaliva per cui non era così essenziale un'altra cosa interessante è che ho scoperto tramite un amico francese che comunque la resistenza francese era operativa e molto all'interno e in particolare uno dei punti di riferimento erano i pompieri i pompieri sono importantissimi anche nella nostra base erano importantissimi e ovviamente non potevano essere messi da parte la cosa interessante era che veniva segnalati l'uscita dei battelli tramite dei messaggi che quando i pompieri di Bordeaux dicevano che stava finendo l'acqua tendenzialmente si indicava il momento in cui loro vedevano un battello che si apprestava a uscire vuol dire che loro in qualche modo vedevano che il battello era nelle chiuse aveva di fronte una decina di ore per risalire l'estuario per cui c'era tutto il tempo di informare le forze inglesi e di preparare l'agguato sicuramente in uno di questi agguati cadde il Tarantini il Tarantini venne silurato proprio davanti all'estuario giace su una profondità di 40-50 metri per cui è stato beccato lì da un sommergibile inglese che stava facendo la posta proprio all'estuario non so se sia stato collegato o no all'informazione dalla resistenza francese ma sicuramente era qualcosa con cui convivere certo grazie vedo un messaggio sulla chat anche una domanda ok da Francesco Denrico allora lui mi chiede se ci sono informazioni sui palombari di Betasom diciamo soprattutto si riferisce ad esempio alle navi mercantili danneggiate degli inglesi durante l'operazione Frankton sicuramente in mezzo alle forze di supporto c'erano degli operatori subacquei non è chiarissimo non è dato immediatamente di sapere chi fossero e quali fossero c'è anche da dire che serviva proprio in caso di emergenza perché a Betasom i battelli potevano essere messi in secca e riparati molto facilmente grazie ai due bacini anzi il bacino più grande quando si poteva venivano messi addirittura due battelli contemporaneamente per accelerare i lavori il bacino piccolo poteva ospitare solo un battello alla volta nel bacino grande si poteva benissimo infilare due battelli e lavorare su due battelli contemporaneamente penso di ok di aver risposto ma altra nota sicuramente l'useramo che era uno dei transatlantici di supporto all'inizio per gli italiani venne affondato durante un bombardamento nel fine del 1940 però penso che poi venga riportato a galla con le classiche manovre di recupero di una nave poco più avanti delle 500 metri più a valle nel fiume c'erano i cantieri per cui era facilmente riportabile a galla diciamo che si era appoggiato sul fondo del porto per cui era semi sommerso forse è possibile portarlo a galla e ripararlo in un cantiere navale classico posso? sì prego non so chi sei prego sono sono Giovanni il figlio di Andrea Fucci ciao ciao buongiorno ciao buongiorno senti ero incuriosito da questo accenno che hai fatto sull'organizzazione della base dove mi pare di capire al di là della presenza diciamo nostra come marina e quindi come organizzazione delle attività operative era contestualmente una organizzazione comunque germanica che in qualche modo diciamo era parallela ma che riguardava quali tipi di attività sostanzialmente perché nei racconti di mio padre ho sentito spesso parlare di una cosa che ti ti porto banale no e questa mi è rimasta impressa insomma del fatto che per esempio la mia radio conness in una o più visite che aveva fatto alla base si era un po' spaventato per esempio del degli abbigliamenti in cui i propri nostri erano battere in quella guerra e questa cosa era stata in qualche modo affrontata attraverso materiali che i tedeschi avevano poi veicolato sulla base quindi c'era una parte diciamo parallela di organizzazione rispetto a quella italiana che veniva gestita dai tedeschi se capisco dai ricordi che ho io delle cose di mio babbo insomma confermo insomma intanto diciamo da un lato noi come italiani l'abbiamo fatta fuori abbastanza in fretta se uno guarda i tempi insomma tra fine luglio il primo settembre in 40 giorni ben deciso pronti andiamo diciamo che è stato un pronti andiamo non completamente da sprovveduti però si è partiti e ci si è presentati a Bordeaux diversi convogli sono partiti dalla Spezia per portare il personale c'era sia personale italiano militare e anche molto personale civile dell'assessore della Spezia e si è cercati di andare subito molto sul concreto rende operativa la base in fretta ai primi di settembre arriva già il primo sommergibile ma la spina per cui bisognava essere subito pronti e operativi in questo accordo si è stati anche abbastanza chiari nel vorrei dire nel sfruttare la presenza tedesca gli accordi prevedevano che gli italiani si occupassero della delle operazioni in mare mentre invece per esempio la sicurezza del recinto della base era affidato a San Marco ma la presenza la sicurezza della presenza italiana nell'area era di fatto rimandata ai tedeschi cioè la zona era militarizzata e occupata dai tedeschi per cui direi che la presenza tedesca era molto forte e anche direi pesante rispetto alla popolazione francese i francesi subivano e mal sopportavano la presenza tedesca perché ovviamente era molto pervasiva questa diciamo organizzazione prevedeva ad esempio il supporto la copertura aerea il supporto delle navale nelle operazioni in uscita gli italiani si concentrava veramente solo sulle operazioni proprie dei battelli in tutto questo poi ovviamente siamo arrivati in guerra come siamo arrivati probabilmente un po' impreparati e i tedeschi ovviamente erano tutti molto più rigidi e belli diciamo come presenza rispetto a noi ed è sicuro che abbiano sollevato il problema e magari sopperito diciamo che probabilmente parlare di vestiario era tra virgolette forse anche superfluo perché su altri aspetti per esempio non abbiamo avuto supporti più concreti un esempio che mi viene in mente uno dei piani italiani meglio due piani italiani allo scoppio della guerra noi avevamo diversi mercantili della flotta mercantile italiana sparsi per il mondo non si poteva farli rientrare prima della dichiarazione di guerra perché sarebbe stato un chiaro messaggio ai servizi segreti altrui che stavamo facendo qualcosa era stato pianificato che le navi che erano all'estero per quanto possibile cercassero di rientrare e in caso di problemi era dato per scontato che una parte di queste mercantili si è stato bloccato o peggio ancora catturato sequestrato da forze nemiche ma era un prezzo da pagare l'altra faccia della medaglia che si è concretizzato appena dopo era quella di far diciamo convergere tutte le navi che fossero state in grado di farle di forzare il blocco in cui erano bloccate nei porti diciamo neutrali stranieri e convergere su Bordeaux Bordeaux non solo divenne il punto di riferimento per le operazioni belliche e dei sommergibili ma anche il punto dove far attraccare le navi mercantili che ritornavano verso l'Europa chiaramente non potevano entrare in Italia dovevano passare per Gibilterra Gibilterra era chiusa dovevano convergere su Bordeaux e mi aggancio a questo discorso perché in particolare c'era un altro piano quello di convertire due navi abbastanza grosse l'Himalaya e il Fujijama in navi corsare in maniera analoga a quelle tedesche tipo l'Atlantis e altre navi famose venne chiesto ai tedeschi di avere i cannoni per attrezzarle perché in quel momento i tedeschi avevano un sacco di armamento e alla fine non si finalizzò questo discorso per cui come dicevo probabilmente i tedeschi su altri aspetti ne parlavano ma invece per quanto riguarda forse azioni più concrete quattro cannoni da imbarcare sull'Himalaya per farlo diventare una nave corsara non si concretizzò noi come italiani eravamo pronti alle modifiche da fare nei cantieri di Bordeaux erano già stati individuati i cantieri erano già stati preparati i piani operativi per modificare le navi un'altra cosa che viene in mente è che gli italiani in qualche modo erano gli italiani badavano al sodo e si arrangiavano devo dire non si arrangiavano in senso negativo si arrangiavano molto bene e l'obiettivo lo perseguirono molto bene di organizzarsi e devo dire che si organizzarono molto bene perché sfruttarono il territorio e nei ricordi dei francesi tuttora i tedeschi sono sono stati l'invasore l'italiano invece era percepito ovviamente erano anche loro invasori ma gli italiani vennero diciamo abbastanza ben assimilati anche dalla popolazione locale infatti anche dalle storie di Andrea Andrea quando scappò dal campo di concentramento trovò rifugio proprio a Bordeaux non a Bordeaux piuttosto che altri nel senso che tutte avevano trovato più o meno le loro amicizie sia femminili che maschili per cui la popolazione di Bordeaux in qualche modo era da un lato al 100% stile verso i tedeschi gli italiani invece vuoi per affinità tra noi e i cugini francesi sia vuoi anche per il nostro modo di fare eravamo senz'altro ben accolti e molti di loro si integrarono addirittura finita la guerra rimasero sul territorio e si integrarono e continuarono a vivere a Bordeaux è vero sì sì tutti i racconti di mio suocero sì proprio è tutto così infatti ecco una cosa vabbè forse qua ecco sempre dei racconti di Andrea Fucci per esempio emerge che lui era autista e c'erano i compiti diciamo ufficiali ma c'erano anche i compiti ufficiosi per esempio a me ha raccontato di quanto gli fosse antipatica la moglie di spinge il nome del successore di Polachini la moglie di no di grossi Antonio grossi scusatevi è vero per cui diciamo che il rapporto di Andrea con con Grossi non ha citato niente di particolare ma mi ricordo che Andrea puntualizzava di quanto fosse antipatica la signora Grossi e gli faceva pulire le scarpe anche sì la doveva accompagnare qualche volta e lui gli chiese di pulirgli le scarpe perché si era sporcata per cui gli chiese all'autista per favore ne pulisca le scarpe che da un lato va bene però insomma per cui non solo gli toccava fare queste operazioni altre volte raccontato anche di aver portato gli ufficiali sia alle feste diciamo agli eventi che venivano organizzate allora al comando di Molin d'Ornon era il comando ufficiale lì c'erano solo le situazioni ufficiali però quando in altre occasioni si organizzavano degli eventi diciamo delle feste al castello di Tosier e lì c'erano state proprio veramente degli eventi per esempio un evento è stato fatto in occasione del primo affondamento finto da parte di Grossi Alessandro Di Capua vedo che prego sempre io purtroppo l'argomento è molto interessante volevo sapere qual era il periodo di permanenza dei battelli nella base di Bordeaux quindi il turnover e come veniva il turnover ossia il transito attraverso Gibilterra che insomma è un punto molto molto difficile quali erano le procedure di attraversamento se sono note del canale della della di Gibilterra ok ma allora intanto diciamo che non c'era una pianificazione precisa dell'avvicendamento e delle operazioni ovviamente si doveva contemperare nel momento in cui si era Betasom le riparazioni del battello che era rientrato e anche un adeguato periodo di riposo teniamo presente che le missioni in mare duravano anche 80-80 giorni tipicamente si cercava di stare intorno al mese e mezzo o due ma spesso si andava oltre per cui gli equipaggi che tornavano sia l'equipaggio che il battello avevano sofferto di questa lunga democazione e dall'altra parte si voleva anche fare in modo che il battello fosse il più possibile operativo in mare per cui qui è molto utile andare da un lato dove si dovrebbero verificare i documenti relativi alle missioni in mare e lo schema che ha fatto Rossetto il comandante Rossetto è veramente molto interessante per capire direi che a occhio più del 60% del tempo i battelli erano in mare forse anche il 70% l'altro aspetto più critico è invece l'attraversamento da Gibilterra è molto raro pochi battelli uscivano e rientravano da Gibilterra l'obiettivo principale era di portare la forza subacquea a operare in Atlantico per cui si andava in uscita verso Gibilterra l'uscita da Gibilterra si iniziò a studiare l'uscita in immersione già nel 39 per cui alcuni battelli iniziarono a fare diciamo in momenti non sospetti prove per uscire invece durante come dicevo durante il periodo bellico la maggior parte dei battelli usciva non era ben definita c'erano delle istruzioni per procedere pian piano tenersi sulla costa africana ma non troppo perché c'era la presenza di correnti però in diversi resoconti si vede da un lato quanto fosse difficile sfruttare la corrente o il momento giusto per uscire perché bisogna tener conto che in questa uscita invece c'era un forte presidio da parte delle forze inglesi Ghezzi ci raccontava di aver passato dei brutti momenti in uscita sul Cappellini in uscita da Gibilterra perché si sono dovuti fermare e adagiare sul fondo per cercare di uscire e questo veniva spesso fatto perché ci si adagiava ci si fermava e si aspettava di poter poi uscire in queste manovre adesso non mi ricordo se forse nel Marronari se ne parla forse Ghezzi si racconta anche del fatto che nell'appoggiarsi sul fondo ci si appoggia un po' troppo e il fondo era molto fangoso per cui diventò difficile di uscire da un lato la tensione di aspettare che si esaurissero i rumori delle unità di superficie e dall'altro riuscire a sganciarsi dal fondo e poi a quel punto affrontare di impeto sfruttare il momento per uscire senza preoccuparsi troppo della corrente cioè a quel momento ormai giocare tutto per tutte e uscire perché ormai non c'era più tempo per aspettare Ammiraglio prego le tolgo le rimetto il microfono ah perfetto non ho anche attivato io niente allora innanzitutto volevo salutare tutti i partecipanti e seconda cosa ringraziarvi per questo invito a partecipare a questa presentazione che devo dire è stata interessantissima interessantissima anche perché sono tante cose che innanzitutto non conoscevo e sulle quali non mi ero mai applicato ed è bello conoscere la logistica che come tutti sappiamo è alla base del successo delle operazioni e io sono ammirato dall'impegno dedicato per cercare tutte queste notizie tutte queste ricostruzioni che significa una passione davvero davvero considerevole personalmente mi ritengo un operativo soprattutto un logistico io ho fatto i sommergibili con grande entusiasmo e devo dire che mi sono più preoccupato ovviamente della quotidianità e di altre cose che non delle ricerche come come tutti molti di voi sanno ovviamente nel 2017 in occasione proprio della diciamo della inaugurazione del monumento al sommergibilista di Agrieta abbiamo anche io sento dei disturbi li sentite anche voi? no per fortuna no noi non li sentiamo perfetto allora diciamo che nel 2017 giusto per fare un po' di cronologia abbiamo ho cercato di mettere insieme con il consenso ovviamente dell'ANMI un po' una sorta tra virgolette di armata brancaleone c'è un po' di persone che viaggiavano tutte con le medesime motivazioni però ognuno per fatti propri e quindi tentare questa sfida di mettere insieme un po' di sommergibilisti diciamo del passato recente quelli che bene o male avevano fatto parte dei nostri equipaggi parliamo degli anni 70 anni 60 anni 80 e giù di lì e devo dire che tutto sommato questo tentativo è andato in porto non era facile perché sapete bene che mettere insieme tante anime tanti tanti punti di vista e anche ovviamente e tanti tanti approcci alla questione sommergibilistica non era facile però devo dire che bene o male siamo riusciti a mettere insieme un bel gruppo sono circa 170 sommergibilisti e diciamo che al di là dei valori condivisi quello che abbiamo cercato di fare fino ad oggi è stato quello di testimoniare una presenza una presenza attiva durante gli eventi durante le manifestazioni non dedicando molto agli approfondimenti quindi questa circostanza è sicuramente utile per quanto mi riguarda ho visto che c'è l'ammirare di capo a bene merito eccetera eccetera sicuramente è utile per aprire un altro fronte per arricchire le nostre conoscenze e devo dire che oltre ad aver avuto il privilegio ma nel vero senso della parola di conoscere un buon numero di quei giovanotti di quel tempo negli anni dall'85 al 90 io ho frequentato molto l'Anmi di Milano e quindi ho conosciuto Filippi ho conosciuto Lenzi Rossetto Rossetto vabbè è un caso a parte perché per quella persona ho nutrito Fracchi Portogallo eccetera per Rossetto ho nutrito un'ammirazione incontrollabile non so se mi consentite questo termine perché come comandante mi sono immedesimato nel suo dramma il dramma dell'otto settembre che lui ci ha raccontato in qualche circostanza del fatto che la mattina è stato chiamato dai tedeschi hanno detto scusi faccia un po' l'assemblea veda un po' chi è con noi e chi è contro di noi perché che è successo è successo che avete cambiato orientamenti bene allora essendo stato comandante ho compreso il dramma di questa persona di una formazione ventennale trentennale eccetera eccetera e da dover sovvertire in un attimo dover prendere una posizione cosa non facile e devo dire che l'ho sempre raccontato a tutti ho sempre detto a tutti quanti guardate io di quello che è il mio know-how delle esperienze dei colloqui delle cose che ho avuto la persona che più mi ha impressionato nella diciamo dei racconti che ho avuto è stata quella di Rossetti e devo dire che l'altra ammirazione che avevo per questa persona era non so se si può dire le physique du rôle lui è venuto a Maricosomma a fare una conferenza aveva 93 anni 94 e un uomo tutto d'un pezzo diritto schiena dritta ma non schiena dritta solo a livello mentale anche schiena dritta dal punto di vista fisico francamente mi ha lasciato un grosso una grossa impressione allora non volevo occupare tutto il forum con le mie considerazioni quindi vi ringrazio per l'invito per aver partecipato per aver fatto la sua conoscenza forse ci siamo già visti però siccome l'età avanza a volte se non c'è una frequentazione assidua si possa dimenticare le persone che si sono incontrate per una volta o due volte francamente a me fa estremamente piacere aver partecipato e sarò attentissimo a seguire anche ulteriori comunicazioni comunque complimenti per tutti grazie ringrazio dei complimenti e che devo però allargare a tutti a tutta la base e forse dare la colpa anche a Marco perché a me ogni tanto vengono delle idee un po' strane e Marco rincalza ancora di più queste idee e partiamo facendo diciamo non in missioni impossibili però ne facciamo imprese strane e pazze e ci avventuriamo in queste imprese per cui vorrei veramente condividere questi ringraziamenti con Marco prima di tutto e con tutta la base con tutti i membri di Betasom che aiutano vedo Vincenzo prego Vincenzo sì innanzitutto ti devo ringraziare perché è veramente stata la tua e quella di Marco sono state due presentazioni veramente eccellenti no? ho scoperto tanti tanti le conoscevo ma ho scoperto aneddoti che io non sapevo e ti vorrei porre una una domanda no? sì ma tutto quello che tu sai per esempio che ormai si è diventato una sorta di mente storica di Betasom perché insomma hai preso hai attinto dal Grande Rossetto dal Ghezzi da tutti questi personaggi che purtroppo non sono più fra noi la domanda che ti pongo è questa ma hai pensato di mettere nero su bianco tutti questi aneddoti proprio per non far perdere questa memoria perché veramente sono aneddoti spettacolari no? di gente che ora non c'è più ma che ha fatto grandi cose all'estero ha rappresentato la Marina dell'Italia in una certa maniera meritano di essere ricordati in qualche modo quindi secondo me sarebbe proprio da mettersi lì e fare un libro di memorie riguardanti proprio Betasom questo è quanto comunque complimenti ok grazie ancora dei complimenti che vanno a 360 gradi questa è un'ottima idea probabilmente insieme a Marco che non deve scappare ne teniamo conto diciamo che in parte è anche uno degli scopi di Betasom se voi avete osservato per esempio abbiamo tramite l'aiuto di Massimo di Bologna abbiamo anche raccolto le memorie di Andrea Fucci probabilmente abbiamo raccolto un po' di documentazione di racconti di Attilio Ghezzi effettivamente non ho tanti ricordi anche nelle conversazioni fatte con Mario Rossetto per cui potremo anche procedere nel sistemarle diciamo che è un'ottima idea datene presente per il futuro magari Marco se vuol dire qualcosa anche lui perché a questo punto sarà il coautore di queste memorie eccomi scusate mi stavo rispondendo in chat ad altre domande per cui non riesco essere sempre presente al pezzo io odio Vincenzo perché ha la capacità di tirare fuori tutti i nostri progetti senza conoscerli una prima parte di memorie è già stata raccolta perché con Vedetta Atlantica nel 2012 quando abbiamo festeggiato i 10 anni di video di Beddason è già stato come dire creato un cofano di memoria che prendendo spunto da Vedetta Atlantica che era la più importante tra le riviste stampate dai marinai della nostra base atlantica abbiamo raccolto la vita un altro libro è già come dire a buon punto ed è quello che è stato realizzato da Antonio con Erwan Langeo francese con cui abbiamo collaborato strettissimamente anche lui è socio del nostro gruppo e per quanto la parte italiana Antonio l'ha accennato sia pronta vorremmo cercare di fare una traduzione anche in francese e in inglese realizzata questa parte se tutto va bene dovremmo anche riuscire a stampare questo libro anche oggi ancorché oggi la carta stampata non sia più come dire valutata come una volta ma l'intenzione è di festeggiare il nostro ventesimo compleanno il 13 giugno del 2022 proprio con una qualcosa del genere qualcosa che possa sancire per bene quello che è stata la base atlantica e allo stesso tempo dare visione di quello che la nostra associazione il nostro gruppo ha fatto in vent'anni di esistenza io non vedo altre domande se posso farne una io come no mi viene da chiedere al di là delle logistiche organizzative e tutti i resti c'era naturalmente una sorta di fondamentale differenza fra noi e i tedeschi rispetto alla precisione teutonica all'organizzazione assoluta di tutti i particolari e di tutto il resto invece la nostra leggendaria arte di arrangiarci e magari di riparare un guasto con un fil di ferro e la classica fascetta dal punto di vista appunto dell'atteggiamento e dell'approccio con la gestione di tutte queste cose i tedeschi come ci vedevano i comunitoconi c'era un'idea di sufficiente o come mi ammiravano questa nostra particolarità ok magari inizio a rispondere io diciamo che io non ho non mi sono molto focalizzato su questo aspetto o meglio qui si sarebbe dovuto parlare con qualche tedesco e sentire un po' diciamo che dai racconti italiani non c'era una gran interazione tra gli italiani e i tedeschi perché di fatto i nostri italiani allora più di tutto erano impegnati nell'attività della base e nelle missioni quando arrivavano alla terra diciamo che da un lato volevano subito rilassarsi e divertirsi e poi il secondo obiettivo per quanto possibile era quando potevano rientrare a salutare le famiglie in Italia per cui il loro passaggio la loro interazione con i tedeschi era abbastanza limitata poi come ho sottolineato l'operatività della base era del tutto indipendente dai tedeschi le comunicazioni venivano attraverso dei canali ben precisi c'era l'ufficiale di collegamento e Rössing ma non c'era una gran interazione operativa quotidiana che permettesse anche di parlare con i comunitatori tedeschi lui direi che erano quasi due comunità indipendenti nella bordo occupata grazie mille sei esaustivo come sempre non posso che unirmi ai complimenti generali per il lavoro titanico fatto è decisamente splendido se per caso sarà poi disponibile la registrazione avrei piacere di riceverla perché mi è mancata connessione per un 5-6 minuti ho perso qualcosa ti ringrazio nuovamente ok incrociamo le dita perché ho registrato il tutto e speriamo che non avvera avuto sorprese nella registrazione per cui non diciamo niente finché non si vede il risultato incrociamo le dita ci sono altre domande? ecco una cosa importante tra due settimane no tre settimane il 13 giugno due o tre settimane quelle che sono c'è la seconda parte direi che è una conferenza che ha un titolo diverso però di fatto è l'evoluzione la continuazione per cui andremo un po' più nel dettaglio di Vedetta Atlantica perché Vedetta Atlantica racconta i marinai infatti è quello che ci ha colpito da subito e diciamo che a questo punto sarò io invece spettatore curioso di vedere Marco che ci racconta le sue emozioni leggendo è un documento per chi non l'avesse avuto ancora tra le mani non l'avesse letto mi invito veramente di leggerlo perché anche questi giorni qua per la presentazione l'ho ripreso in mano e ho trovato altre sorprese altre cose che non saltano all'occhio subito per cui suggerisco a chi non l'abbia di mettersi in contatto con me con Marco in modo che ci dovrebbe essere qualche copia ancora a disposizione e vediamo di farvela avere ma vi suggerisco di guardarla perché è veramente uno spaccato della vita dei marinai cioè non è il resoconto delle operazioni è come vivevano loro tanto questa è l'emozione per me più forte che mi ha stimolato a procedere in questa cosa Marco scusami Antonio volevo ringraziare Emanuele che ha mostrato vedetta atlantica eccolo che lo sta mostrando nuovamente ben sfogliato direi ben usurato dal tempo è una cosa che non può che far piacere bene ci sono altre domande o passiamo ai saluti in vista del rancio sì Antonio se posso intervenire io sì Danilo direi dalla voce innanzitutto Antonio mi unisco ai complimenti generali per questa è stata splendida questa questa conferenza e poi avrai una domanda e una richiesta allora la domanda è se è previsto in futuro non troppo lontano la nuova visita della base a Betasone la richiesta invece è se è possibile con il tempo di riprovinare un po' di quelle fotografie che sono perdute con il saluto io vi ringrazio e alla prossima del 13 ok allora rispondo brevemente non abbiamo ancora previsto una visita un ritorno direi a Bordeaux però sicuramente penso che sarà uno degli obiettivi adesso di programmare quanto prima un momento per ritornare a Bordeaux e devo dire che i bacini sono come dico i bacini in particolare è sotto riqualificazione urbana per cui anche io sono curioso di tornare a Bordeaux a vedere che cosa è successo dovrebbe essere diventato molto più bello perché c'è un'idea di far rivivere il bacino come porto commerciale per cui sicuramente si sta andando perduta diciamo il nostro pezzettino il nostro di cuore che abbiamo in quel bacino siete presente che noi siamo stati lì poco meno di tre anni i bacini invece hanno ormai 150 anni di storia per cui è giusto che evolva e dall'altra parte il compito nostro e di Betasov in particolare è di preservare la memoria mantenere la memoria di quel piccolo frammento di tempo in cui si è stati lì grazie se posso se posso volevo prego prego vado io vada Miraglio Casamassima allora volevo dire solo una cosa ma siccome l'immaginario è sempre colpito vedere l'ingresso dei battelli all'interno dei bunker e quelli in cemento armato ma quei bunker esistono ancora sono visitabili ecco interessante allora diciamo che non è italiano il bunker l'unico battello che noi sappiamo che è entrato lì dentro è stato il da Vinci che è stato infilato dentro per farlo per minare il bunker il bunker è tuttora in piedi e allora i bunker venivano costruiti impastando cemento e acqua di mare che per gli ingegneri civili è una cosa orribile però sono lì in piedi da 70 anni e non si riescono a tirare giù o meglio le operazioni per smantellarli sono enormi per cui ancora lì alcuni bunker ce ne sono 5 in particolare Brest La Rochelle Lorient Bordeaux è un quinto che mi sfugge quello di Bordeaux San Nazer San Nazer ecco San Nazer San Nazer è stato riconvertito ed è diventato una specie di parzialmente museo parzialmente è stato diciamo integrato nel tessuto urbano c'è anche un bellissimo museo San Nazer quello di Lorient è visitabile così com'è ed è un museo proprio per da visitare sono passati tutti anche attraverso la fase di basi per i sommergibili francesi nel dopoguerra Brest che ha il bunker all'interno della serai militare chiuso al pubblico ed è usato come magazzino tuttora deposito non per i sommergibili ma come deposito quello di Bordeaux è parzialmente visitabile perché i primi tre o quattro alveoli sono stati vengono destinati a mostre temporanee poi diciamo Betasom in quell'occasione è stata molto fortunata perché siamo stati accompagnati diciamo passando dal retro del bunker tramite una scala che portava fin sopra il tetto sul tetto dove c'erano le installazioni contraeree e abbiamo potuto avere una visione della zona dal tetto e vedere anche la struttura del tetto che è una struttura tripla ci sono delle grosse travi di cemento che servono a fare il primo impatto con le bombe poi c'era il pavimento su cui noi camminavamo che però nascondeva l'intercapedine di ghiaia e sabbia rispetto poi alla volta degli alveoli per cui di fatto le bombe se passavano nel primo strato si fermavano sul pavimento di quello soffitto impressionante da vedere ed è visitabile non è visitabile la parte diciamo del tetto però è aperto e visitabile e si sente diciamo l'odore del tempo dentro comunque se ci sarà l'organizzazione di una gita mi prenoto da subito mi permetto anche di ricordare una cosa allora come vi ho detto quando eravamo lì c'era il Ghiezi che ci ha che ci ha accompagnato il Ghiezi allora aveva intorno 90 anni oltre 90 anni adesso non mi ricordo la dettaglia esatta però aveva un po' di fatica a camminare però era eccitatissimo io mi ricordo che siamo arrivati al pomeriggio e ha detto mentre la figlia ovviamente più giovane si è andata a riposare il Ghiezi mi ha guardato e fa andiamo a fare un giro intorno perché abbiamo avuto a girare intorno al pomeriggio il giorno dopo siamo andati a vedere i bacini abbiamo camminato sul fiume che attraverso la garonna e poi siamo andati a vedere il bunker eravamo preoccupati perché insomma il signore aveva la sua età e la figlia ha provato a suggerire di rientrare in albergo in taxi la risposta è stata lapidaria se tu sei stanca vendi il taxi io devo continuare la visita e questo comunque era proprio l'emozione che traspariva e aveva 91 Antonio 91 anni ecco e mi ha trattato proprio male ti ricordo l'ha trattata malissima la figlia perché dice io devo vedere devo ricordarmi e comunque una cosa devo condivido con l'ammiraglio come come comandante Rossetto anche mio papà avevano quell'impostazione di spalla dritta tipica dei barinai tipica delle persone che sono state educate così infatti se voi vedete c'è una foto in cui si vedono papà e Marco con altre persone e proprio l'impostazione fisica è diversa grazie Antonio grazie grazie ok altre domande qualcuno vuole fare dei commenti Antonio volevo farti complimenti perché è sempre interessantissimo sentirti e complimenti per il grossissimo lavoro di ricerca storica che hai fatto e anch'io come l'ammiraglio ho chiesto se è pensabile poter tornare a Bordeaux soprattutto adesso che le nostre conoscenze si sono arricchite quindi potrebbe essere ancora più interessante io ho un bellissimo ricordo di quei due giorni trascorsi in giro per la città nella base e mi emoziono ancora adesso ricordo della piccola cerimonia che abbiamo fatto sul fiume grazie beh direi che adesso abbiamo anche un punto di riferimento a Bordeaux nel signor Delrico per cui sicuramente iniziamo a pensare come pianificarlo insieme a Marco e vediamo di far concretizzare anche quest'altra idea bene bene signori pensavo di essere stato troppo noioso però vedo che l'argomento è piaciuto non c'è pericolo grazie ancora dei complimenti a nome di tutta la base lascio l'ultimo saluto a Marco e poi vi saluto allora intanto buon appetito e buon rancio anzi direi salute grazie buon appetito a tutti buon weekend grazie Antonio grazie i ringraziamenti ovviamente di tutta Betasom agli intervenuti e i complimenti i complimenti ad Antonio per quello che ha realizzato appuntamento come diceva Antonio al 13 giugno il nostro diciottesimo compleanno proseguiremo sulla parte vita dell'esperienza Betasomiana dei sommergibilisti italiani grazie a tutti e arrivederci a presto